Easy Go Un boomerang Sai come si usa? No, non proprio Non riesco a farlo tornare indietro Posso provare io? Grazie a tutti. Wow! Ce l'hai fatta, papà! Puoi provare anche tu? Mi sa che non sono capace. Dai, proviamo insieme. Una cosa importante è trovare la giusta posizione di partenza. Adesso devi lanciare dritte e un pochino verso destra. Lancia! Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, papà! Bravissimo, Sean. Visto? Non era difficile. Grazie a tutti. Puoi andare sull'altalena? Ti spingo io. Va bene. Continua, papà! Più in alto! Puoi andare sull'altalena? Puoi? 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 Forte! Vorrei un pacchetto di caramelle alla fragola Grazie Ehi, ti ho preso delle caramelle Odio la fragola Grazie, sei stato gentile lo stesso Grazie a tutti Grazie a tutti